bentornati bentornati a casa mia e carandash pablo furono ho acquistato su amazon finalmente le mie tanto sospirate pablo sospirate perché perché praticamente ero curiosa di provarle ovviamente e quindi ho approfittato di un'offerta tra l'altro venivano 31 euro e qualcosa la confezione da 18 una bella molto molto bella confezione in latta si apre così vedete sono molto molto carine brosciurina che non ci può fregare di meno e adesso le svociamo le proviamo insieme allora io normalmente le prendo sfuse le matite ma le carandash pablo sfuse sono praticamente quasi introvabili si si trovano ma insomma il gioco non valeva la candela il prezzo ogni singola matita era un po alto ho deciso insomma di prendere un set vediamo un attimino allora vabbè qui c'è il bianco vediamo di sbocciare qualcosa e questo è il grigio il 6 ando c'hanno pure le stelline della resistenza alla luce vabbè so carandash è tutto dire insomma no che numero è sta matita 605 vabbè comunque questa è carta per fotocopie allora queste matite sono bellissime allora basta appoggiare la mina sul foglio e già scende il colore sono un po durette comunque stratificano che è una meraviglia non sono cremose o comunque non sono cremose cioè non aspettatevi di avere in mano una prismacolor perché non c'entrano proprio niente sono un po durette non so se sono a base di olio di cera c'è chi dice a base di olio c'è chi dice a base di cera a noi non ce ne può fregare meno sono matite comunque belle facciamo il confronto con una supra color soft che è la gemellina che è la gemellina questo dovrebbe essere l'antracite e perché perché la gemellina supra color soft è leggermente più cremosa la supra color soft tra l'altro è acquerellabile ma io la uso a secco e rende benissimo comunque sono entrambe fantastiche come matite avevo delle supra color acquistate sciolte perché si trovano più facilmente nei negozi ecco diciamo che la la pablo è un pochino più secca ecco io tra le due diciamo che chiaramente che preferisco la supra color soft perché è un pochino più cremosa e rende benissimo anche a secco allora qui ci abbiamo sempre se torniamo alle pablo però sono fantastiche la 009 nero ma sarà quello il numero boh tre stelline qua allora il nero già perché l'ho già sbocciate ieri il nero non è proprio nero 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 carbone più un grigio scuro stratificando si arriva una certa tonalità di nero ma non è proprio la perfezione andiamo avanti con la questo è il set da 18 cercherò di andare un pochino più 600 no che numero è questo 0 49 terra d'ombra sono un po secche devo dire la verità però guardate che che coprenza e è importante il fatto che comunque facciano cadere subito il colore perché non fa male il polso e questo è importantissimo per questo io dico sempre che sempre è meglio prendere matite buone spendere un pochino di più ma almeno non fa male il polso a qui c'abbiamo la numero 009 0 69 buon siena però almeno mi sono tolta sta soddisfazione è un po secche è carta da fotocopio me l'ho l'ho provata anche su carta dei libri da colorare sono un pochino secche verde pisello allora 245 oliva oliva chiara light olive ecco io allora sembrano sono un po no danno vi spiego meglio la sensazione di essere un po graffianti in realtà non lo sono io sto facendo un pochino di pressione ma il colore scende nell'immediato io per farvi vedere meglio lo swatch no graffianti no secche si vedete adesso questa è una pressione leggerissima e guardate già il colore che scende ovviamente questa è una matita che poi va stratificata no questa è la 220 220 la grass green come colori comunque ripeto carandash e carandash allora io sono un po malata lo sapete con le matite colorate quindi c'è poco da fare spendo capitali ma è così è una passione 180 verde malachite sembra la 158 di sì è molto molto simile alla 158 che è un ottaneo di faber caster poligromos forse un pochino più infantile è sto verde malachite però insomma bruttarello sto verde dai no scherzo su poi bisogna sapere anche abbinarli i colori quando si disegna quando si colorano i libri antistress questa è la 171 ed è un bel celeste turquoise turquoise blu che facciamo andiamo qua vicino al marrone il pigmento c'è vedete stratificando a parte poi a parte si miscelano pure bene stratificando viene fuori una bella copertura è questa è la 160 blu cobalto scusate ma io lo sapete ci vedo poco ecco qua stessa cosa beh è un bel blu questo eh bella andiamo avanti perché sto andando a troppo piano allora a me piace vedere i video con gli swatch quindi dai sorbiteveli anche voi 100 qua io scherzo eh scherzo ragazzi e ragazze 140 blu oltremare che è una tonalità di blu che io detesto ma ce l'ho trovata e me la tengo la tonalità non mi piace ma è a gusto mio questa è invece la sono matite buone buone di qualità violetto il 120 questo già come colore mi piace di più le mie riprese da della serie non c'ho l'attrezzatura adatta 090 porpora ma che porpora ma può essere un porpora che è così chiaro ma che non mi gli hanno dato è un rosa questo è un rosa tipo come come lo possiamo definire un incrocio tra un rosa e un viola ecco poi questa è la allora 080 Carmine no che Carmine 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 almeno dai ci facciamo due risate ce n'è bisogno allora è un rosso rosso ma insomma sì la coprenza c'è però le tonalità non è che mi stanno perché io ieri le ho solo provate non le ho provate e poi qualcuna non tutte le tonalità non è che mi convincano granché sinceramente 070 Scarlatto vediamo se questo è un rosso un po' più rosso io vado alla ricerca dei rossi che siano rossi che normalmente i rossi che trovo io so sempre tipo o arancione un po' scuro oppure che virano sul sul magenta non se ne parla proprio sì questo è un bel rosso non ecco comunque un po' aranciato già sta cosa comunque insomma la ci può stare allora questa è la 030 oh poi se avete le domande io sto qui orange questo è proprio il classico arancione insomma sono matite scusate matite che rendono bene però sono molto molto secche ripeto la sopra color soft acquerellabile che è la gemellina è più morbida e cremosa quindi riprenderò sicuramente quelle non amplierò assolutamente queste Pablo perché sono matite d'artista perché avendo la resistenza alla luce sono matite d'artista però a me sembrano un po' più da scuola scolastiche come tonalità parlo e come secchezza come durezza perché comunque sapete che i bambini a scuola hanno bisogno di matite resistenti io parlo a questo livello ma come qualità e come pigmentazione come coprenza sono fantastiche comunque prendete sempre tutto col beneficio di inventario quello che dico io perché non sono una professionista non sono un artista ma sono mie opinioni 0-10 giallo forse ci devo prendere confidenza le ho provate solamente poco ma poi magari ne riparleremo ma per ora non le ricomprerei non amplierei il set e l'ultima che è un altro giallo ed è il canarino no è il limone 2,40 ecco qua quindi panoramica sulle matite panoramica sui colori insomma credevo meglio ripeto a livello di credevo fossero più morbide sono simili alle policromos ma più dure più secche le policromos sono più cremose leggermente insomma più cremose perché non sono cremosissime le policromos ripeto pigmentazione c'è una passata e già scende il colore resistenza la mina è di qualità la matita è bella anche come si presenta e e si vede che è roba buona ma per roba buona pare che sto a parlare di droga sono matite colorate vabbè spero vi sia stato utile se avete domande mi fa piacere insomma chiedete pure tranquillamente io vi ringrazio credo di avervi detto tutto comunque se devo ampliare cioè se dovessi ampliare cosa che farò prenderei le supracolor soft eccole qua che sono le gemelline queste sono anche acquerellabili ma anche a secco sono fantastiche e quindi Pablo siete belle siete carine ma cioè rimanete qui voi senza avere la compagnia di altre Pablo sicuramente non fateci caso che sono tutta matta a presto un bacione un abbraccione alla prossima ciao